Turno a parlare di borsa, in particolare della borsa italiana, quella di Piazza Affari. Oggi l'indice principale della borsa italiana, il Fuzzi Mib, dopo l'apertura sui livelli del giorno precedente, ha visto prevalere le vendite, tutta la seduta di fatto è avvenuta in territorio negativo, al termine il ribasso è il risultato dello 0,7%, quindi nulla di clamoroso. Certo, siamo in una fase forse cruciale per le borse di tutto il mondo. Il nostro Fuzzi Mib aveva toccato un minimo l'11 ottobre scorso, quando era arrivato per la seconda volta in area a 20.450 punti, ma quel livello, come si dice in gergo, ha tenuto. E da allora abbiamo avuto un rimbalzo, chiamiamolo così, insomma. Un rimbalzo corposo, visto che l'indice da quel minimo ha guadagnato il 20%. Ovviamente la performance dall'inizio dell'anno è ancora decisamente negativa, a meno 10%, tuttavia, come abbiamo detto, rispetto ai minimi di metà ottobre il recupero è risultato importante. Al punto che molti analisti prevedono che in questo mese e mezzo che manca alla fine dell'anno il nostro Fuzzi Mib possa addirittura recuperare anche questo 10% e quindi terminare l'anno in corso addirittura con una performance positiva. Sarebbe glamoroso, insomma, se pensiamo al più che disastroso primo semestre dell'anno. Ovviamente tutto ciò non è accaduto soltanto sulla borsa italiana, ma un po' su tutte le borse del mondo. E allora ovviamente occorre chiedersi il perché. Allora, limitiamoci così alla borsa italiana. Ma ripeto, il discorso vale anche per tutte le altre borse del mondo. Questo 2022 assomiglia molto, sì, un po' su scala ridotta comunque, a quanto accaduto nel 2020. Nel febbraio del 2020 le borse sono crollate verticalmente, poi c'è stato un ampio recupero. La performance dell'anno 2020 comunque è rimasta negativa, ma di poco. Insomma, rispetto all'abisso nel quale eravamo caduti, non si può fare nemmeno un confronto, insomma. E poi addirittura nel 2021 è stato un anno proprio in cui le borse sono aumentate da tutte le parti in maniera costante. È stato proprio un anno estremamente positivo per le borse, un anno d'oro, diciamo, visto che praticamente l'indice ha continuato ininterrottamente a crescere. Insomma, si è comportato come sognano tutti gli investitori, ossia crescere e crescere costantemente senza mai dare nessun segnale di cedimento. Arriviamo a quest'anno. Quest'anno, come detto, abbiamo assistito ad una discesa continua per la prima metà dell'anno una fase di assestamento, diciamo, nei mesi estivi e infine questo forte recupero del quale abbiamo già detto. E allora chiediamoci che cosa ha determinato tutto questo? Beh, la domanda è banale, insomma. Lo sappiamo tutti. Nel 2020 il crollo è avvenuto per il Covid mentre nel 2022 per il conflitto russo-ucraino. Ok, ma ora chiediamoci perché le borse, dopo quei crolli, hanno recuperato? Allora, dopo il crollo dovuto alla questione pandemica, le borse, come detto, hanno recuperato gran parte delle perdite già nell'anno 2020. poi nel 2021 hanno continuato a salire arrivando a superare di gran lunga i livelli del 2019, ossia quelli pre-pandemia. E cosa ha spinto le borse così in alto? Certamente si è diffusa la consapevolezza che la pandemia non avrebbe fatto quei danni che inizialmente si erano temuti. Certo. Ma a mio avviso gran parte di quel rialzo di borsa ha iniziato, ripeto, già nel 2020 ma poi proseguito per l'intero anno 2021 è dipeso dall'enorme quantità di moneta emessa dalle banche centrali che in gran parte, insomma, quella moneta, sappiamo, è finita sui mercati finanziari. Ed il recupero delle borse al quale invece stiamo assistendo in questo momento, cioè dal 12 di ottobre scorso, insomma da un mese a questa parte, da che cosa è determinato? Beh, se dovessimo fare, utilizzare, diciamo, lo stesso criterio dovremmo dire che i mercati ora ritengono che il conflitto russo-ucraino a livello economico non crei poi quei problemi che inizialmente tutti avevamo temuto. Ma nel frattempo è anche accaduta una cosa non imprevedibile. È maturata un'inflazione che non si riscontrava da decenni. Stiamo quindi a vedere gli sviluppi ora che avranno quelle che avranno le borse fino alla fine dell'anno. Ma certo che la questione inflazione diventa un fatto centrale. Vabbè, visto che oggi sto trattando l'argomento borsa e allora colgo l'occasione anche per parlare di un titolo in particolare che nell'ultimo mese è stato al centro dell'attenzione. Mi riferisco a Telecom Italia. Come certamente sapete insomma il titolo Telecom Italia ormai da anni forse decenni è ininterrottamente in declino. Tanto per darvi un'idea soltanto negli ultimi cinque anni in borsa il titolo ha perso il 75% del proprio valore. Ebbene dal 12 di ottobre appunto come detto il giorno diciamo in cui le borse hanno iniziato il recupero Telecom Italia è uno dei titoli che ha maggiormente aumentato le proprie quotazioni dal minimo diciamo toccato l'11 di ottobre. E benissimo mi direte vabbè essendo uno dei titoli che precedentemente aveva maggiormente perso è naturale che sia anche uno di quelli che ha maggiormente beneficiato dell'inversione di tendenza sui mercati. Certo assolutamente vero però in questo caso il recupero è in particolare dovuto ad una notizia che si è sparsa sul insomma nei corridoi della borsa poi ha avuto anche praticamente delle conferme ufficiali ossia la possibile nazionalizzazione di Telecom Italia. e vi chiedo subito che ne dite fatemi però fare qualche considerazione quello della telefonia è un settore strategico e quindi vale la pena che lo Stato lo tenga esclusivamente per sé e poi però fatemi fare anche un'altra considerazione Telecom Italia ha un debito monstra alla fine dell'anno scorso a bilancio l'indebitamento finanziario netto rettificato ammontava ad oltre 22 miliardi di euro era diminuito di un miliardo rispetto all'anno precedente ma insomma lasciatemi dire che è un indebitamento pazzesco se si raffronta poi col fatturato che supera di poco i 15 miliardi ultima cosa da rilevare ad oggi Cassa Depositi Prestiti quindi il tesoro italiano insomma possiede il 10% della società quindi per nazionalizzarla dovrebbe acquisire il restante 90% naturalmente forse non serve che ve lo dica ma insomma l'ho preciso la nazionalizzazione significa anche accollarsi tutti i debiti della società al momento il ministro dell'economia Giorgetti ha frenato nei riguardi dell'ipotesi di nazionalizzazione ed infatti negli ultimissimi giorni il titolo è sceso un poco comunque domando a voi cari ascoltatori per cosa optereste nazionalizzare Telecom Italia o no?